in questo esercizio andremo ad analizzare l'effetto scatter con il p flow esistono varie metodologie di realizzazione grazie anche a nuovi operatori introdotti nelle ultime release prima di iniziare visioniamo il file che utilizzeremo abbiamo un profilo geografico realizzato con un piano di grandi dimensioni 20 metri per 20 metri con 200 subdivision per lato al quale sono stati applicati modificatori basilari uvw map due displays con relative mappature in questo caso dei gradient ramp modificati all'occorrenza ed il turbo smooth se volete solo nel caso siate sicuri di non modificarlo prossimamente potete collassare tutto con un edit poly o se preferite con un edit mesh personalmente prediligo un edit poly poiché consente di mantenere una geometria a maglia quadrata andiamo a realizzare il primo metodo di applicazione di scatter apriamo il particle view ed il primo elemento che dobbiamo generare sarà un empty flow il quale lo lasciamo così di default che a sua volta sarà collegato ad un primo evento con un bird con la possibilità di visionare le particles fin dall'inizio quindi start e stop saranno uguale a zero e un amount a piacere nel nostro caso abbiamo utilizzato un valore di 400 ed un position object associamo nell'operatore position object il nostro piano e spuntiamo l'opzione density by material e dal menu a tendina scegliamo grayscale ovviamente non abbiamo un materiale applicato alla geometria e provvediamo subito con l'applicazione di un gradient ramp solitamente queste operazioni vengono svolte con una mappa in bianco e nero o scala di grigi derivati da profili specifici come per esempio mappe di bump per catene montuose o aree di interesse si potrebbe effettuare la stessa operazione con il vertex paint un modificatore che non tratteremo ma che è molto utile in questi casi per il nostro esercizio ci accontenteremo di applicare un gradient ramp già studiato ad hoc per questo esempio inseriamo un operatore shape facing al quale associamo la camera presente in scena ovviamente possiamo anche scegliere di spuntare l'opzione use parallel direction che consente di mantenere le particles o meglio i piani sempre paralleli all'occhio visivo nel caso in cui la camera non sia animata potrebbe funzionare ma in caso contrario potrebbe essere un problema personalmente difficilmente lo attivo impostiamo una misura delle shape quindi delle forme con 200 e una variazione del 50 per cento ovviamente queste misure sono relative anche in base alla vostra unità di misura che state utilizzando vi ricordo che in tutti i miei esempi sto utilizzando una misura generica se non specificata all'inizio dell'esercizio a questo punto dobbiamo applicare un materiale con un canale alpha quindi apriamo il material editor e nel diffuse appliceremo la nostra mappa a colori mentre nel canale dell'opacità in questo caso in un materiale standard quindi l'immagine in bianco e nero ricordiamoci di spuntare l'opzione face map per associarlo al nostro flow aggiungiamo un operatore material static ed istanziamo il nostro materiale appena creato creiamo un'istanza in modo tale che ogni modifica che andremo ad applicare al nostro materiale si ripercuoterà direttamente anche nel nostro flow ecco fatto siamo riusciti a realizzare il nostro primo boschetto di conifere sicuramente questa tipologia di distribuzione è la più leggera da realizzare ed anche da renderizzare molto simile è l'associazione di una geometria tramite un operatore shape instance naturalmente la geometria di partenza deve avere delle caratteristiche già note come è stato illustrato nel corso particles 101 per il nostro esempio possiamo utilizzare una geometria e si cioè un albero torniamo nel particle view copiamo il nostro event appena creato e sovrascriviamo lo shape facing con un operatore shape instance al quale sarà associata la geometria appena creata anche in questo caso possiamo variare la scala e la variazione della stessa sostituiamo il materiale creato con un su budget material anche perché quando si utilizzano geometrie del genere solitamente si utilizza un materiale con molti id e si potrebbe variare anch'essi utilizzando più sistemi abbassiamo il numero di particles nel bird poiché come notiamo vediamo un'interazione tra tutte le particles in alternativa a questi due metodi si potrebbe utilizzare anche il bird texture ed il bird paint quest'ultimo molto utile se vogliamo realizzare in maniera artistica o accurata la posizione delle particles sull'oggetto ma in casi di distribuzione molto grossolana o estesa tale tools lo vedo quasi inutile o meglio lo trovo una grande perdita di tempo in fase di produzione mentre il bird texture rappresenta un'ottima alternativa se non fosse per il fatto che almeno da alcuni test personali l'ho trovato inadatto perché poco preciso nel calcolo della posizione delle particles